Io volevo andare al mare, volevo andare al mare, primo settembre volevo andare al mare, primo giorno di mare tutta la stagione, nah, nah, perché? Perché piove, non dava andare al mare Ecco, è strappato il primo punto, bravo Joe Allora, come avevo già accennato nel vlog del 15 agosto, intanto salve a tutti, sono Brex, sono vivo e ricominciamo quei video, yeee, allegria E vabbè, lascia fa Dicevo, procederò all'acquisto di una Playstation 4, come per l'appunto avevo già annunciato, proprio perché ci sono delle esclusive che mi interessano E giochi che voglio, proprio desidero, bramo, bramisco, non so se esiste questo termine, ma l'ho coniato io adesso, lo bramisco Fin dal trailer di lancio, no, ora non vi dico quali giochi, ma vi lascio l'IPE Avevo trovato anche un'occasione abbastanza interessante, con un buon prezzo, che c'era la console, il joystick, il visore e due giochi A un prezzo, dicevo, abbastanza interessante, sono tornato due giorni dopo di comprarlo, era già sparito Quindi, mi hanno consigliato di aspettare che ora, con settembre, ci saranno nuove offerte, magari esce qualche bandolo interessante, qualche promozione Insomma, quindi ho intenzione di prenderla, ma sto ancora aspettando una buona occasione, o che magari nel caso me ne venga segnalata una Nel mentre, cosa succede? Allora, ovviamente ritornerò su delle serie che avevo dovuto mettere in sospeso prima dell'estate Proprio perché avevo cominciato a lavorare, quindi non riuscivo più a starci dietro Quindi riprenderemo assolutamente ODT e poi andremo avanti Ho trovato, tra l'altro, anche dei giochi veramente fenomenali, ma molto belli Che ho intenzione assolutamente di portare sul canale Quindi la mia idea era, ci concentriamo su ODT e se siete d'accordo, ditemelo poi nei commenti Io farei uscire un episodio al giorno Lo mettiamo alla sera, verso l'ora di scena Gli episodi di ODT saranno ovviamente di una mezz'oretta Però, lì in ODT, se avete visto, ci sono quei pod di salvataggio Quindi io non posso assicurarvi che quella puntata dura una mezz'ora Perché se in quella mezz'ora non trovo il pod di salvataggio Io devo salvare lì sul momento, cioè interrompere la registrazione e salutarvi E alla registrazione dopo andare a cercare il pod Il fine settimana magari vi porto qualche gioco indie Siccome il fine settimana, ovviamente, il sabato la gente va al giro Quindi non è molto seguito YouTube Domenica fa la live qualcuno di molto più grandi di me Già da un po' di tempo la rubrica del bidone dell'umido dei giochi indie Quindi stava già diventando da sé una rubrica secondaria Quindi alla fine mal di poco Però ributto qualche gioco indie Quindi se qualcuno se lo vuole guardare È così da tappare i buchi Quindi io direi di concentrarci su ODT Poi darò il via subito dopo ODT Ci partirò con un altro gioco che l'ho provato giusto un pochino all'inizio Ho detto no basta fermo non voglio sapere niente di questo gioco Perché questo lo devo portare assolutamente sul canale E quindi lo vedremo presto Detto questo c'è un'interessante novità Anche se non sono stato molto presente su YouTube in questa stagione estiva Perché ripeto per chi non lo capisce che stavo lavorando Non è che mi ero rotto di fare video Già da un po' di tempo io seguivo un canale che si chiama OurSciFi E' gestito da un ragazzo molto molto simpatico Che conoscendoci e facendoci amicizia Lui ha anche un altro canale che si chiama Wasd Magazine Che tratta appunto guide dei videogiochi Come diventare milionario su quel gioco Che strategia usare per questo RTS E' un canale molto interessante Vi lascio i link di entrambi questi canali in descrizione Così intanto vi fate un'idea e cominciate a conoscere questo ragazzo Perché vi sto parlando di lui? Perché come avete potuto notare Io avevo avviato sul mio canale la rubrica chiamata Giochi che devi conoscere La mia idea era quella di fare una recensione Accompagnata a un paio massimo due video Per farvi appunto conoscere il gioco Quindi una recensione e un paio di video Per farvi vedere in mezzo all'azione Considerando che però sarebbero stati troppi video per un singolo gioco Allora a questo punto con l'approvazione di questo ragazzo di Wasd Magazine Io entrerò a tutti gli effetti a far parte del suo canale E vi porterò quindi la recensione di un gioco sul suo canale E se poi qualcuno è curioso di vederlo in azione Vedrà i gameplay sul mio Ok? Quindi le recensioni saranno su questo Wasd Magazine Perché appunto rimane coerente anche col nome Magazine Quindi là ci saranno le recensioni sul mio i gameplay E niente, andateci a dare un'occhiata Perché secondo me può essere una cosa veramente interessante E anche perché lui è molto bravo a spiegare le cose Poi Arriviamo all'ultimo punto E poi concludiamo il vlog di oggi E poi mi metto a registrare ODT Allora, io già da un po' di tempo Avevo intenzione di creare una sorta di mini evento Per coinvolgere anche voi Voi che mi state seguendo Che comunque guardate i miei video Mettete like, commentate Insomma siete attivi C'è un gioco che a me piace particolarmente Però premetto versione PC Stavo pensando di giocare online tutti insieme Io con gli iscritti Quindi con voi Vi invito sul Discord E niente, giochiamo insieme Il gioco in questione è Killing Floor 2 Uno dei giochi più sottovalutati Che abbastanza ignorati Proprio grazie a delle recensioni critiche brutte A causa del primo gioco E quindi il secondo è brutto per forza Sta a 5 euro E io vi consiglio Anche qui vi lascio il link in descrizione Di comprare su All K Shop Un sito che vende chiavi Da attivare appunto su Steam E per molti giochi Costa anche meno di Instant Gaming Per questo ve lo consiglio Fateci un salto Ripeto il link in descrizione E' molto semplice Come c'entrate Scrivete All K Shop Mi raccomando mettete la bandiera italiana Perché altrimenti vi trovate tutti i prezzi Che non sono euro Scrivete il nome del gioco Prima di cliccare su compra Guardate Scrollate Non vi sapeva più a fatica Di far rollare la rotellina E guardate anche gli altri prezzi Se ne trovate uno che costa meno Vi pigliate quello che costa meno Potete anche pigliarvi la versione deluxe Che comunque costerà Siano qualche centesimo in più Ok? E quindi niente Ci facciamo delle belle partitozze Io poi le registrerò insieme Ripeto Giocherò insieme a voi Le registrerò E poi caricherò la puntata Su YouTube Ovviamente non intera Perché se no 6 ore di video Ci si fa una live E al momento Non sono ancora in grado di fare live E poi non vi preoccupate Perché anche se è la prima volta Che giocate a questo gioco Vi vengo dietro io con il medico E quindi riparerò anche i vostri eventuali casini Niente Detto questo ragazzi Ripartiamo a mille Vabbè ragazzi Rimanete in attesa Rimanete con noi E con me Con noi Vabbè Dislocazione di personalità E noi ci becchiamo Prossimamente Su ODT E noi ci becchiamo